questione celio cosa è successo negli ultimi giorni qual è la posizione del comune la posizione del comune la ribadisco insomma è quella che da oltre un anno vado scrivendo non solo dicendo ovvero che auspico che il liceo celio e con i suoi studenti i suoi insegnanti rimanga in centro non è solo una questione di affettività storica da tanti anni che il celio è lì ma anche una questione di come dire della vivibilità e delle persone che in centro città rovigo gravitano attorno al celio quindi io ho assunto un impegno importante nel corso dell'ultima assemblea degli studenti dove erano presenti 400 studenti di liceo celio e anche molti molti insegnanti si è svolta giovedì 14 presso il cinema teatro duomo io ho detto tranquillamente che informerò e difiderò politicamente parlando sia la dirigente pastorelli e il presidente dell'amministrazione provinciale perché il consiglio consiglio comunale mi ha dato un mandato preciso approvando la mozione all'unanimità nel corso dell'ultimo consiglio comunale affinché il sindaco intervenga perché il celio rimanga in centro ricordo a tutti quanti che la competenza delle scuole in questo caso superiori è provinciale quindi la preside e l'amministrazione provinciale per quanto riguarda tutto quello che ne consegue l'immobile del comune e l'amministrazione provinciale ed il comune di rovigo hanno sottoscritto nel 1997 una convenzione che prevedeva ma prevede tutt'oggi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione io non prenderò in carico nessun immobile se non verranno effettuati delle verifiche e dei sopralluoghi per vedere i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che o sono stati fatti o dovevano essere fatti in questi 20 anni 97 2017 perché se non se non sono stati fatti non voglio ricevere in consegne restituiti un immobile dove poi da dopo domani da giugno quando faranno il trasloco dovrà metterci mano io con i denari del comune di rovigo ma siccome io non mi do mai per vinto mai e le battaglie meritano tutte di essere combattute non esistono battaglie che non meritano di essere combattute anche se uno sa quando inizia a combattere le che potrebbe perdere si combattono tutte le battaglie quindi io l'ho detto al giovedì 14 dicembre a tutti gli studenti io sarò al vostro fianco se voi deciderete di occupare il ceglio non sono io che istigo all'occupazione però se gli studenti decideranno di fare un'azione naturalmente nel rispetto dell'ordine pubblico non si deve far nulla di che non sia concesso dalla legge un'occupazione pacifica perché la lettera che ho ricevuto ieri dalla pastorella è scandalosa è scandalosa ok quindi come sindaco mi opporrò con ogni mezzo la lettera è pronta la devo firmare ieri era a roma non sono riuscito a farlo ieri la farò oggi è una difida politica allegando la mozione che è stata approvata all'unanimità e chiudo dicendo che la contraddizione politica del partito democratico che in comune a rovigo vota la mozione e in provincia in amministrazione provinciale vota contro è uno scandalo che grida vendetta alla come dire al buon senso non solo politico amministrativo ma questa gente si deve vergognare ok glielo dico io vergognatevi poi andate pure sui giornali sulle televisioni andate a dire quello che volete ma dovete vergognarvi la vostra contraddizione politica grida vendetta allo scandalo a quegli studenti a quelle 2000 persone che hanno sottoscritto un documento affinché una petizione affinché il ceglio rimanga in centro quindi per quanto riguarda il sindaco di rovigo il ceglio rimarrà in centro entro a sera partirà la difida la pastorelli ha comunicato che lei trasferirà il ceglio dopo le vacanze durante le vacanze scolastiche bene dottoressa pastorelli professoressa quello che è io la difido a trasferire il ceglio e arriveranno i documenti dopodiché carissimi studenti se deciderete di occupare pacificatamente quindi senza creare problemi di ordine pubblico voi le vostre famiglie quelle 2000 persone che hanno sottoscritto la petizione io sarò con voi e quindi e quindi e quindi e quindi Grazie.